Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni, ho il piacere di avere in studio il sindaco di Lorenzago di Cadore, Marco D'Ambros, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. Noi ci conoscevamo prima, però questa occasione della sua elezione ci permette di frequentarci un pochino di più e faccio riferimento a questo perché è passato un anno dalle elezioni del maggio dello scorso anno. Questo primo anno com'è andata? Buonasera a tutti, grazie a te Belluno dell'invito. Direi che è andato molto bene, anche perché la squadra che abbiamo messo in campo si sta impegnando molto, tutti i consiglieri stanno dando tanto e quindi sono contento anche per questo perché il gruppo è bello e lavora bene. Lei è sempre stato in qualche modo all'interno dell'amministrazione, comunque ha sempre molto partecipato alla vita del paese. Passare da partecipante a responsabile cambia qualcosa? C'è un po' di differenza, c'è un po' di sostanziale differenza perché quando sei all'opposizione, quando sei consigliere magari vedi le cose che non vanno e ti lamenti e dici perché non vengono fatte. Quando sei là le vedi lo stesso, cerchi di farle però non sempre ci riesci e per la burocrazia e per gli uffici e per… comunque ringrazio anche gli uffici, i dipendenti comunali per il lavoro che fanno, insomma il segretario e tutti. Lei occupa questa carica all'indomani di Vaia e poi arriva quest'altra cosa terribile che è Covid, quindi periodo molto impegnativo da questo punto di vista, sta sperimentando tutte le possibili normative. Allora noi, come diceva, siamo stati eletti a maggio dell'anno scorso e abbiamo trovato la progettazione di Vaia. Qualcosa è stato realizzato, qualcosa è ancora da realizzare, ci stiamo interfacciando con l'assessore Bottacin e col commissario dell'acqua che appunto ringrazio per la disponibilità e speriamo di concludere quel capitolo. Per quanto riguarda il Covid, anche questa ci è toccata, come si suol dire, e devo dire ancora grazie ai consiglieri e alle consiglieri comunali che hanno inventato dei modi di comunicare e dei servizi da dare al cittadino in questo periodo. Ad esempio è stato istituito il canale Lorenzavo Informa, canale Telegram, dove è passata tutta la comunicazione Covid e iniziative. Purtroppo abbiamo avuto 4 contagiati, 4 persone positive, una l'ultima fra l'altro uscita proprio la settimana scorsa e appunto questi servizi che l'amministrazione ha offerto sono stati degli ottimi servizi. Ad esempio c'era un canale Lorenzavo per me dove la gente rimanendo a casa poteva pubblicare, poteva mandare delle foto vecchie, foto nuove per ravvivare un po' le cose. Poi sempre in questo ambito c'era la disponibilità nostra vista la chiusura delle scuole per chi aveva problemi con le stampanti, così di stampare e portare i compiti a casa e così via. In tutta la provincia la popolazione ha una certa età, questi modi nuovi di comunicare sono presto capiti dalle persone anche di una certa età oppure qualche difficoltà sussiste? Un po' di difficoltà c'è stata e lo abbiamo visto appunto nel Covid anche a livello scolastico, a livello di famiglie che hanno dovuto confrontarsi giornalmente con video lezioni eccetera. Indubbiamente i nipoti, secondo me i nipoti possono aiutare, possono coinvolgere i nonni e non dimentichiamo che anche la nostra comunicazione non è esclusivamente Telegram, Facebook, è anche insomma tradizionale bacheca con l'avviso e il giornale insomma. Che alla fine funziona sempre. Certo. E questa è una stagione turistica particolare che sembra favorire la montagna, purtroppo ad ascoltare anche quelli che sono i commenti degli operatori, è un turismo sì in aumento per quanto riguarda presenze ma con una risposta poco convincente per quanto riguarda gli acquisti e quindi la fortuna delle attività commerciali, mi conferma questo? Beh allora noi richieste ne abbiamo avute tantissime, infatti la Proloco che gestisce l'ufficio turistico eccetera, ha avuto tantissime telefonate e tantissime richieste, di appartamenti di gente che voleva venire in vacanza appunto in montagna. Dopo Lorenzago ha un grosso problema che è un po' quello dell'ospitalità alberghiera. Gli alberghi ci sono ridotti man mano negli anni e siamo arrivati adesso ad un solo albergo, l'albergo Trieste. Però c'è l'idea, c'è il progetto di ospitalità diffusa che era partito prima del Covid, poi adesso si è fermato un attimo ma contiamo di prenderlo in mano dopo la stagione estiva. E ci sarebbe buona disponibilità da parte della popolazione, si tratta di mettere a disposizione delle stanze se non addirittura degli appartamenti per i turisti. Possiamo dire tranquillamente che Lorenzago da anni, da sempre, è stato un paese a vocazione turistica quindi la gente ha proprio l'idea di affittare, qualcuno ha già iniziato anche a sistemare, a rinnovare gli appartamenti e sistemare, e dopo c'è anche il discorso del bonus adesso del 110% che può aiutare anche a sistemare gli esterni delle case eccetera. Anche perché voi potete giocare una carta che può tornare quasi di anno in anno che è quella dell'avere ospitato i pontifici, quest'anno per esempio ricorre il centesimo della nascita di Carol Vojtila. Esatto, quest'anno ricorre questo anniversario che noi avremmo voluto celebrare e ricordare con tanti eventi però anche qua abbiamo dovuto un po' ridimensionare la nostra idea. Il museo dedicato alle presenze dei papi a Lorenzago è aperto da una settimana, apre nel periodo estivo solitamente, anche quello ovviamente con le precauzioni Covid è sempre un punto di attrazione, un punto di riferimento per chi viene a Lorenzago. Devo dire che a livello di manifestazioni anche la Proloco si è data molto da fare e abbiamo tagliato molto di quello che avevamo in programma, in progetto però qualcosa sicuramente lo facciamo e lo faremo anche perché i turisti che vengono se vero è che saranno di più degli altri anni qualcosa dobbiamo offrire loro insomma. E soprattutto sfruttare quest'onda favorevole per creare le basi, quasi un'abitudine. In questo progetto dell'ospitalità diffusa generalmente si contempla una reception e quindi avete individuato voi qual è la zona prediletta perché c'è Villa Grande e Villa Piccola, vero? Sì, il paese è diviso in due borgate. È Villa Grande quella più sotto? La prima che si trova salendo da Ada. È lì dove vorreste farlo oppure a Villa Piccola? No, l'idea sarebbe di coinvolgere, anzi nel gruppo, ci sono anche delle attività commerciali. Una è appunto l'albergo Trieste e una è l'edicola che c'è in piazza. Quindi cercare di coinvolgere magari loro per fare da punto di riferimento, per fare da reception o quando l'ufficio turistico è chiuso insomma. Ultimamente si è notato, ed è una nota che faccio con piacere, una disponibilità a collaborare con i confini e con i comuni oltre il confine Veneto per voi è Forni di Sopra. Aveva mi pare lanciato una proposta di collaborazione, poi il Covid ha chiaramente cambiato tutto, ma c'è ancora l'idea di collaborare per valorizzare per esempio per voi tutta la zona del Mauria. Allora noi abbiamo fatto, abbiamo abbozzato possiamo dire, insomma un incontro, un paio di incontri col mio omonimo, si chiama Marco anche lui, nuovo sindaco di Forni di Sopra. e siamo partiti con la collaborazione dell'Anello Pista di Fondo, Dolomiti Nordic Ski, abbiamo i Deplian e la pubblicità fatta appunto con loro, quindi è già un qualcosa. L'idea era vedere se riusciamo a realizzare magari una ciclabile, un percorso ciclabile, qualcosa insomma tra Lorenzago e Forni. Qui potrebbe essere d'aiuto il fondoletta che è stato rivisto, è stato riattivato, teoricamente dovrebbe arrivare di un milione che è una cifra enorme, potreste fare mille cose. Ecco allora anche qua le cose da fare sarebbero moltissime, tantissime. Dobbiamo, intanto speriamo arrivino questi soldi. Perché lei non ha ancora nessuna notizia certa. In certezza non abbiamo ancora niente, io spero e auspico e col mio gruppo stiamo anche ragionando su dove investirli e come investirli, perché ci sarebbero tantissime cose, un esempio su tutti è il centro sportivo, anche lì bisogna definire qualcosa e cercare di farlo partire in qualche modo, insomma. Poi c'è l'ex asilo, che praticamente ci sono due stabili, le scuole e l'ex asilo sono due stabili dell'epoca fascista, insomma. Ci sono molto belli come architettura. Esatto. E lì abbiamo, grazie a un contributo della provincia che aveva dato ai comuni in terza fascia l'anno scorso, stiamo cercando di fare il tetto, la copertura dell'asilo, che nel 2007 era stato bruciato, eccetera, quell'anno che era venuto il Papa anche. E quindi anche lì sarebbe da investire, cercare una destinazione per quello stabile, bellissimo. Certamente le opportunità e le idee non mancano, bisogna che arrivino i soldi, però. Certo. Visto che ha citato l'asilo e la scuola media, che sono veramente due bellissimi stabili, peraltro la scuola media ha una facciata rivolta verso tutta la valle del centro Cadore, sembra quasi un albergo più che della bellezza. Invece l'asilo aveva ospitato, io ricordo, le prime edizioni di Lorenzago Aperta, vero? Allora, Lorenzago Aperta si chiama appunto così, ringrazio ancora Vito Veccellio e Francesca, perché ogni anno ci supportano con questa bellissima manifestazione e riempiono anche le serate dell'estate. Non è solo una mostra, è una serie di eventi, come sappiamo. Allora, Lorenzago Aperta si chiama appunto così perché apriva. Allora, apriva, era partita addirittura al Babec, la prima edizione vent'anni fa, quest'anno compie vent'anni Lorenzago Aperta. Il Babec è un famosissimo locale che per anni e anni ha ospitato anche concerti ed era un punto di ritrovo per tutto un po' il centro Cadore. Esatto, è partita lì per poi spostarsi all'asilo e da vent'anni ci fanno vivere un'estate ricca di eventi, ricca di avvenimenti. Leggevo l'altro giorno sul libro che hanno fatto in occasione dei 18 anni che in questi 18 anni si pensa siano passati mille artisti a esporre. Quindi, se sono passati mille artisti a esporre... Sì, no, no, artisti anche di vaglia. Certo, certo. Pensiamo anche quanti visitatori avranno visto la mostra, saranno passati a Lorenzago. Se mille sono gli espositori... Quest'anno viene riproposta, avete anche questa collaborazione con Auronzo? Sì, quest'anno viene riproposta dal 2 agosto in poi a Lorenzago e dal 10 luglio partirà ad Auronzo. È una bella collaborazione e speriamo sia all'inizio di una collaborazione anche fra i comuni su altre cose che d'altronde c'è già, insomma, con Vigo, con Auronzo, c'è già una collaborazione. Bisognerebbe cercare magari di valorizzarla un po' di più. E si svolgerà sempre presso le scuole medie? Sempre le scuole medie, sì. E peraltro davanti c'è anche un parco, se non ricordo male, vero? Sì, allora lì quella zona in periodo estivo è una zona che noi chiudiamo al traffico, è una zona pedonale, lì ci sono i campetti gioco sul piazzale delle scuole, i campetti gioco, c'è un grande piazzale, sotto c'è un parco giochi che è in una posizione bellissima, stupenda. Uno viene a vedersi Lorenzago aperto e poi dice vorrei farmi un giro, allora c'è il sentiero del Papa, poi ce ne sono tanti altri, poi chi vuole avventurarsi su per le cime deve avere buone gambe per farlo. Avete pensato a manutentare i sentieri, soprattutto con vaia, quindi pulirli, ma poi anche segnalarli? Allora qui devo ringraziare sempre il CAI e i volontari, perché ci tengo a dirlo, sarò ripetitivo, ma ci tengo a dirlo, senza l'aiuto dei volontari in questi piccoli comuni non si potrebbe fare niente o si potrebbe fare poco, quindi bisogna ringraziarli, non finisco mai di ringraziarli. Allora il CAI si è impegnato in questi anni a sistemare i sentieri, a ripulire, a ritabellare e risegnalare e quindi stanno facendo un grande lavoro e li ringrazio ancora appunto. Il lavoro l'avete fatto, l'avete sfalciato? Allora... Una squadra di persone come si sono mossi? Ecco, allora anche qui bisogna dire che il paese è grande e noi abbiamo assunto un solo operaio comunale, che farebbe ben poco da solo, perché non ce la fa a far tutto. Il paese quando si fa il giro degli sfalci, prima di finirlo è già ora di ripassare, insomma. Quindi anche qua, per fortuna, grazie a un contributo del BIM, grazie a... abbiamo anche... abbiamo una consigliera comunale che è molto attiva nel sociale e quindi abbiamo partecipato a un RIA, a un reddito in inclusione attiva e siamo riusciti ad assumere un paio di persone portando il gruppo, diciamo, di operatori ecologici a quattro unità per l'estate. Quindi stanno facendo un grande lavoro e per questo devo anche ringraziare Davita Carraro, Francesco Carraro, che ci ha prestato un furgone per il periodo estivo, altrimenti avremmo avuto gli uomini, ma non avremmo avuto i mezzi, insomma. Quindi un ringraziamento doveroso a queste persone che vogliono bene al paese e che ci danno sempre una mano. Visto che ha parlato di furgoni e del muoversi, questo del Covid è stato un periodo molto difficile, soprattutto per certi paesi, perché sono venuti a mancare i collegamenti. Ecco, uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare è stato questo, anche perché noi avevamo un servizio ADA, trasporto anziani per le visite, quelle cose lì, che è stato sospeso per il Covid, perché non potevano i volontari trasportare tutte queste persone. Non essendoci questo servizio, non essendoci pullman, in qualche modo abbiamo tamponato anche noi, insomma, noi amministratori personalmente, magari portando qualcuno, eccetera. E per quanto riguarda il servizio pubblico, ci siamo da subito attivati con il collega sindaco di Vigo, perché la nostra zona, che si chiama Oltre Piave, è un po' marginale rispetto alla tratta Auronzo-Pieve, che qualche pullman era rimasto su Auronzo-Pieve-Santo Stefano, ma la nostra zona era totalmente priva di servizio. Quindi con Mauro abbiamo scritto a Dolomiti Busse e alla provincia e appunto ringraziamo Padrin e il consigliere Scopel che ci hanno ascoltato, hanno messo prima delle corse e le hanno integrate dal 6 luglio in poi, insomma. Un'ultima domanda, ritorniamo ancora sulla scuola. Il problema dei numeri da rispettare per le scuole di montagna è un problema molto sentito. Curiosamente il Covid risolve in buona parte, perché là dove dovevano starci 20 alunni, adesso ce ne devono stare 10, quindi problemi voi non ne avete. Ma teoricamente no, nel senso che le tre classi medie sono state confermate, ci sono state date, diciamo. Noi abbiamo sempre avuto la grossa preoccupazione dei numeri, però forse, come dice lei, in questo momento possono essere un vantaggio, nel senso una scuola piccola, con numeri piccoli, non ha i grossi problemi che hanno le scuole grandi e di banchi e di presenza nelle classi. Noi abbiamo investito 25 mila euro più o meno per sistemare le aule. Questo fatto tutto di corsa nelle vacanze di carnevale per permettere ai ragazzi di entrare subito dopo le vacanze. Non sono più entrati, perché dopo le scuole sono state chiuse. Speriamo che a settembre riprendano normalmente. Ringrazio anche Vigo per la collaborazione. Noi collaboriamo con Vigo per la gestione delle scuole primaria, infanzia, Vigo, secondaria, Lorenzago. Abbiamo giurito il tempo a nostra disposizione. Come sempre, peroro la causa dei paesi di montagna e soprattutto la possibilità di fare delle belle camminate. Ci sono dei tragitti tra Lorenzago e Vigo che vale la pena di fare. C'è tutta la parte che va verso il lago del centro Cadore. Può essere fatta con molta tranquillità. Un pochino più sopra, per il Mauria, c'è la valle che porta verso il Cridolo oppure il Mierone. E quando siamo arrivati sul passo della Mauria c'è un bellissimo sentiero da fare però per persone esperte che porta a Malgadoana. a Malgadoana e poi c'è anche Stabie. Sì, Stabie e dopo si sale verso Malgassieri. Si può arrivare a Malgadoana. È un bellissimo giro d'anello però un pochino impegnativo a meno che non si rimanga a bassi. Quindi prendetevi nota di queste possibilità e frequentate le nostre zone. Grazie Marco D'Ambros, sindaco di Lorenzago. Grazie a voi per averci seguito e buona serata. Grazie a Telebelluno. Grazie a tutti.